Una cinquantina i leader internazionali giunti a Parigi per manifestare la loro solidarietà dopo le stragi. C'erano tutti i partner europei, da Angela Merkel a Mariano Rajoy, da David Cameron a Matteo Renzi a Donald Tusk, mentre dagli Stati Uniti è giunto il vicepresidente. C'era il presidente del Mali, dove sono impegnate le truppe francesi contro la guerriglia secessionista. C'era anche Reab Dalla di Giordania, il premier turco, quello israeliano, oltre al presidente dell'autorità palestinese. Una sfilata di leader che ha fatto di Parigi la piazza per gridare un no globale al terrorismo. Dopo una ventina di minuti i leader internazionali hanno lasciato il presidente francese, François Hollande, che ha incontrato i sopravvissuti alla strage del Charlie Hebdo e le famiglie delle vittime. Sono stati lunghi abbracci e momenti di forte commozione. In particolare Hollande si è trattenuto con due firme storiche come Renaud Lusier e Patrick Pellou, quest'ultimo noto anche per la sua attività di medico che lo ha portato ai quattro angoli del mondo con medici senza frontiere. Grazie a tutti.